Quando noi parliamo di Total TV parliamo di una televisione che si presenta con modalità differenti, cioè c'è la televisione tradizionale, c'è la televisione delle grandi piattaforme, c'è l'unione di queste due grosse entità, c'è la socializzazione della televisione, cioè quello che i social ci restituiscono come frammenti di questa televisione. Ecco, per capire tutti questi, se noi non abbiamo delle metriche, se non abbiamo qualche cosa che ci dice concretamente che cosa è successo, facciamo una fatica enorme a capire. Rimaniamo al bello, al brutto, al mi piace, non mi piace, che non ci permette più di capire invece un panorama nuovo, una trasformazione incredibile che è avvenuta in questi ultimi anni. Il regolamento del Media Freedom Act, sicuramente una delle componenti più importanti è proprio quello del rapporto con le piattaforme, fra l'informazione delle piattaforme e quello della misurazione degli ascolti, perché questo sappiamo tutti che è una garanzia di mantenimento per le realtà editoriali, soprattutto il rapporto alla pubblicità. Se non si riesce a misurare correttamente, o i competitor non misurano correttamente il loro audience, è difficile che il mercato pubblicitario possa autoregolarsi. L'European Media Freedom Act è un atto che ha un orizzonte meritorio, è sicuramente il tentativo di armonizzare discipline diverse. Ovviamente, essendo la realtà italiana editoriale molto diversa da quella degli altri paesi, bisogna lavorare per cercare di limitare i rischi di eccessiva regolamentazione che al nostro sistema editoriale potrebbero causare degli piccoli o grandi scossoni. Stiamo facendo questo, abbiamo contribuito come Dipartimento per l'editoria alla riflessione che c'è stata in affari europei alla Camera, stiamo operando per avere un parere motivato su alcuni elementi che secondo noi possono essere migliorati o aggiornati. Il consumatore di contenuti è un consumatore trasversale, è un consumatore che passa con una certa agilità da un medium all'altro, o quello che una volta avremmo definito un medium all'altro. E questo significa anche una moltiplicazione degli approcci. Per esempio, non va sottovalutato la capacità di fruire contenuti in mobilità, che è una grande questione e che è anche una sfida per i broadcasti. Infine, vorrei dire che questo comporta una specie di novità anche per la ricerca, perché, come dimostrano anche le indagini dell'Auditel, per come sono cambiate negli ultimi anni, si tratta di mescolare, per così dire, dati di provenienza diversa, registrati con metodologie differenti, e questo è molto interessante, perché vuol dire avere un'elasticità e una capacità di interpretazione certamente aumentata rispetto alle semplici statistiche sul consumo televisivo della tradizionale Auditel dell'inizio. Grazie a tutti.